Eravamo là che lo seguivamo, quando abbiamo visto che andava da sotto avevamo subito capito che sarebbe finita male. Si è impigliato sull'ombrellone ed è malamente atterrato sui tavolini della caffetteria di Cal Maggiore, per fortuna vuoti. L'insolito incidente è stamattina poco prima delle 9.30 a precipitare un drone che un service stava utilizzando per effettuare delle riprese aeree del Duomo e di Piazza dei Signori per il film Leoni di Pietro Parolin con Neri Marco Re. Probabilmente a causa di interferenze l'apparecchio, quasi 90.000 euro il valore, è finito sui tavolini. Proprio per sicurezza in quel momento il tratto di Cal Maggiore era stato chiuso dai vigili. Abbiamo visto questo drone partire dalla piazzetta e a un certo punto è come se avesse perso l'orientamento e è atterrato giusto sotto i nostri ombrelloni. Fortunatamente c'era una signora che si era appena alzata, prevedeva che forse arrivava ed è scappata via. È stata una cosa abbastanza divertente per modo di dire. Grazie. Grazie.